Buongiorno a tutti ed eccoci al nostro annuale appuntamento con il SANA, una data attesissima perché vede l'erbolario e tanti tanti suoi colleghi presentare le novità di Natale. Quest'anno l'erbolario ancora una volta scommette sull'innovazione di prodotti 100% made in Italy che si declinano in due nuovissime linee profumate e poi, novità delle novità, una linea di cosmesi decorativa, di make up che fonda buona parte della sua assoluta novità sulla presenza elevatissima di materie prime naturali. Lascio la parola per meglio descrivere i nuovi prodotti a Daniela Villa, mia moglie, cofondatrice dell'erbolario e direttore tecnico dei laboratori di ricerca dell'erbolario. Quest'anno presentiamo al SANA una linea di make up assolutamente innovativa, oserei dire unica e speciale per parecchi motivi. è caratterizzata dall'altissima percentuale di materie prime naturali, non solo per quanto riguarda gli attivi che caratterizzano ogni prodotto ma soprattutto per quanto riguarda gli eccipienti. È caratterizzata inoltre da determinati concetti che vanno tutti in direzione della massima sicurezza del prodotto. Sicurezza dal punto di vista dermatologico, tutti i prodotti sono stati testati all'università di Pavia per verificare l'ipoallergenicità e non solo, i tre prodotti che riguardano la zona perioculare, mi sto riferendo al copriocchiaie, al mascara, alla matita hanno anche subito un controllo oftalmologico per verificare la delicatezza in questa zona del viso spesso vulnerabile. La linea comprende otto rossetti, otto lip gloss, due copriocchiaie, correttori, una mascara nera, una matita nera, tre terre e una cipria compatta, molto leggera, opacizzante, vellutante. Altra caratteristica fondamentale di questi prodotti è l'assenza di tutta una serie di materie prime sono assenti in questa linea gli acrilati, i parabeni, i siliconi, le materie prime derivate da organismi geneticamente modificati e ogni lotto di produzione viene monitorato per quanto riguarda il contenuto di sette metalli pesanti per cui direi una linea assolutamente sicura, controllata in ogni sua fase e soprattutto performante e dalle texture molto, molto sofisticate e gradevoli. Accanto a queste abbiamo due linee profumate, un accordo viola e un'edera. L'accordo viola è una linea che fonda la sua attività cosmetica sugli estratti di due viole la viola odorata, la viola tricolor, ricche in rutina, quercitina, flavonoidi dalla spiccata attività antiossidante e protettiva il profumo è un delicatissimo profumo pudre che parte con degli accordi agrumati, oli essenziali di limone, di bergamotto, fiorarancio per poi fondersi in un cuore fiorito dove troviamo l'assoluta di gelsomino sambac l'assoluta di violetta foglie, i fiori di violetta per finire in un corpo muschiato la linea è molto completa, va dalle linee corpo a prodotti per la casa bagnoschiuma, creme profumate, crema profumata per il corpo, una crema a mani un talco in polvere per il corpo, a una suntuosa candela per passare poi a dei sacchetti cassetti la linea edera è una linea invece gradita all'uomo, alla donna è una linea unisex verde, frizzante il profumo si caratterizza per delle note iniziali agrumate e troviamo nel cuore del profumo una presenza di note verdi che derivano dalla linfa d'edera, delle note leggermente fiorite dal gelsomino cristalline, vediamo la presenza del gelsomino d'acqua per finire poi in un fondo legnoso accanto al legno di cedro troviamo il legno di cashmere il vetiver di java e dell'assoluta di lentisco anche qui la linea è molto completa, dal bagno alla crema corpo protagonista di tutta la linea profumata è l'estratto di edera ricchissime di edera coside in acido clorogenico che dà a tutta la linea, costituita naturalmente da tensioattivi nel caso di bagnoschiuma emulsionanti di derivazione vegetale che derivano dal cocco, dalla mandorla, dal germe di grano un'attività anti-age, protettiva, derivata proprio da questo estratto di edera abbiamo arricchito anche la già famosa e apprezzatissima linea presentata l'anno scorso dell'acido ialuronico dell'acido ialuronico presentando proprio qui al Sana due prodotti d'eccellenza per la detergenza perché dico d'eccellenza? perché in genere il prodotto per la detergenza viene considerato un prodotto povero noi anche in questo caso siamo riusciti ad arricchire questi due prodotti in particolare uno struccante bifasico e una mousse detergente per il viso arricchire con la presenza dei tre acidi ialuronici a alto peso medio peso molecolare che caratterizzano tutta la linea e quindi benvenuti al Sana e buona visita di questa rassegna ventiquattresima rassegna dell'alimentazione naturale, biologica e del cosmetico naturale che è un po' di più 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 Grazie per la visione!